Ciao ragazzi, in questa quarantena ovviamente non c'è cosa migliore che farsi una bella partita a Football Manager 2020. Ormai sono nel 2027, ho il Pescara, ho il Pescara, sono in Serie A, non riesco a vincere il campionato però ho una buona squadra. Gioco con Frimpong a destra, Delga che è un ragazzo del Barcellona che ho preso, Bettella, grande giocatore, Di Marco, quindi una difesa bella giovane. Poi c'ho Barga che è un ragazzo che ho preso della Sampdoria, un giovanissimo junior, un brasiliano molto bravo e un altro brasiliano che si chiama Bruno, io appunto molto sui giovani. Poi c'ho Andrea Anderson dietro le punte, gioco con 4-3-1-2 e davanti un fortissimo esposito che segna a raffica e un altro brasiliano che ho pescato nelle giovanili del Santos che si chiama Jurenco che segna a raffica. Mi sto divertendo ma il mio obiettivo prossimo è vincere finalmente la Coppa dei Campioni. Ciao ragazzi e buon Football Manager. Ciao. 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 Grazie.